beniamo il video del consiglio pubblicitario del studio del telegi la televisione dettata è una bella televisione sempre presente buon saluto tutto a manu e minore vabbè entrare una telefonata e noi la vediamo così anche il chirurgo che si potrà fare male e il tecnico schiesto è pronto? pronto signor Alfredo buonasera sono Raffina da Bancali che ha senso discutere? notte poco notte Raffina da Bancali, Gavina ah Gavina da Bancali buonasera come sta? Gavina è tu e come ti sta la famiglia? insomma si tira avanti combattando più che altro eh bisogna treballare e treballare uno saluta ma babudogu caramente grazie grazie altrettanto io vorrei salutare tanto sua moglie ti dà una risposta è proprio il mio che sta bevendo in domo e ti intende da saoghe e ti saluta caramente come ti chiesa in domo sua eh? certo certo in più vorrei salutare anche signora Maria saluta che eri stue? con un grosso bacione con un grosso bacione in più vorrei salutare tutti gli ammalati in particolare mia figlia che sta seguendo il programma anche se non le piace ma lo sta guardando lo sta guardando lo stesso perchè mi ha messo a babbo a vederlo eh bravo saluta ma babudogu importante eh? grazie grazie signor Alfredo in particolare Arianna con Alessio e Niccolino con un grosso bacione la famiglia Marras e Pirozzo va bene d'accordo signor Alfredo un bacione grande e un forte abbraccio a presto ciao bella bella ciao e buona trasmissione grazie ciao carissima arrivederci arrivederci questa è una giovincella sinceramente lo devo narrere e su cosa devono scoprire la famiglia però in più su babbo devo stare giovane e vedendo tanto che lo saluto caramente a esso e la saluta tutta la famiglia però non solo a esso a Gabbina e te non fai chiede scomite niente voi caro amico so se ti chiedi me fai questa cosa con te Bernardio però sei scortatore non me dai che la dico come funziona so quanto usato ah intendiamo che vabbè entrare una tratelefonata e intendiamo chieste è pronto? pronto buonasera signor Alfredo buonasera sono Gabbino Demella e svegliato a Ploache ah e la Pia che svegli due benenni e ben affidi eh voglio salutare Alessandro Carta e i cantatori Bazzoni e Giuseppe Contini fisarmonicista e anche a lei, Giannuario Sannia, questa fisarmonica come ti pi sta se in piaga è bene? è in piaga è benissimo, bandicano e buffano a tutto canto bravissimo ascolta una bella trasmissione vi saluto tanto così non disturbo più di tanto ascolta di questo bel cantico che fa che ne come tu hai salutato tutta la famiglia ma non è un minore ciao 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 carissimo ciao ciao io sono davvero appassionato per la cultura nostra non non è mai bella io non ero sempre sono scomitato da che basta non deve mai mancare su quanti altri perché era tutto e ho detto tramite il disco sardo non è un po' di contenente pure in italiano però sinceramente devo estimo vivere su quanti altri su canto di nore scorso uno fa tutto compreso ma sono contento saluto a tutti a mani e minore Alessandro come lo fai di essere molto di amore terminate maggiore molto di amore allegria via allegro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Va bene. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti.